Questi anni qui in prestito mi sono serviti per farmi la bossa e ora spero di rimanere in questa squadra perché è quella in cui ho fatto tutto il settore giovanile e quindi mi preme di più giocare per questa squadra. Per ora ci siamo un po' alternati quasi tutti perché comunque siamo tanti nel mio ruolo, però credo che io mi sto allenando bene, sto migliorando molto col mister perché ci sta facendo lavorare e vedremo ora i risultati se daranno i frutti. Abbiamo lavorato duro come è giusto che sia, spero che ci ritroveremo in campo e i lavori che abbiamo fatto perché comunque abbiamo fatto dei sacrifici e delle corse per essere più preparati degli altri. Pensi di trovare poco spazio visto che parlavi un po' della concorrenza che c'è? No, la concorrenza c'è in tutte le squadre, io comunque mi sto allenando bene, il mister dà spazio sicuramente a quelli che si alleneranno meglio, quindi io cerco di allenarmi bene giorno per giorno e poi il campo dà le sue risposte. Ma non mi piace far pronostici, la Serie B è un campionato molto strano e quindi... Te lo dovevo chiedere. Non ci sono favorite, non mi voglio sbilanciare perché sono scaramantico e quindi lasciamo il dubbio, dai.